dai sali go on vieni go on dove ti trovi vieni go on sali go on vieni go on dai sali go on go on ma è impossibile che ne vuoi salire come dobbiamo fare? ma se un giorno l'ascensore si dovesse fermare come dobbiamo fare? chi ti deve portare in progetto fino a dove? eh? va bene ora scendo andiamo che vuoi fare? ma è possibile è possibile che go non vuole salire come dobbiamo fare? insomma date un suggerimento per favore e aspetto un vostro consiglio ciao ciao da Giacomo e da Juan che non vuole salire porto questa ciuta in mano perché qua a Bari ha piovuto e naturalmente quando go on cammino per le strade tutta la maniera guarda seppure siete voluto ma che ne pensate? avete visto? forse non ci credete ma neanche queste ci vuole salire va bene ci vediamo buonanotte da Giacomo e da Goa che non vuole salire di salire grazie 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 grazie